L'emigrazione giovanile e il futuro del mezzogiorno è il tema del convegno promosso dall'Associazione Regionale Ex Consiglieri in collaborazione con il Forum Regionale dei Giovani, per parlare proprio del fenomeno dello spopolamento di determinate aree della Campania, soprattutto da parte dei giovani che cercano lavoro al nord o all'estero. Ascoltiamo il Presidente del Consiglio Regionale della Campania, Gennaro Oliviero, e il Presidente di Arec, Carmine Iodice. Dobbiamo fare in modo che il Mezzogiorno d'Italia, la nostra Campania, non si desertifichi da qui ai prossimi 20 anni. Questa è una strategia, bisogna che ci sia una strategia del Governo centrale che valorizzi il Mezzogiorno e le regioni che rispondono a questa strategia. Strategia nazionale non ce n'è. Noi come regioni cerchiamo di fare tutto ciò che possiamo con le risorse che teniamo. E' la polemica di qualche giorno fa che non ci vengono trasferite le risorse dovute all'Italia meridionale, alla nostra regione, per 6 miliardi di euro. Avere una strategia senza soldi è un po' più difficile. Tutto questo comporta già una grave difficoltà per il Paese, che si spopola delle energie più forti. Diciamo che determina anche un invecchiamento medio, statisticamente, della popolazione. Non lascia intravedere un futuro per questo Paese e quindi rappresenta, secondo me, il problema di tutti i problemi. Proposte concrete per evitare il fenomeno sono quelle illustrate dal Presidente del Forum regionale dei Giovani, Giuseppe Caruso. Quello che vogliamo fare, partendo dalla problematica, è provare a dare delle soluzioni, delle soluzioni politiche, parlando di condivisione, parlando di rappresentanza dei territori e parlando soprattutto di un nuovo approccio che va verso questa problematica che purtroppo investe il Sud Italia e investe soprattutto i nostri territori.